benvenuti in beltrani camper in caravan vi presentiamo oggi questo splendido rimor super brig 677 dc anno 2007 uno dei mansardati più amati dal pubblico più famosi nella categoria unico proprietario super brig top di gamma del gruppo rimor alta qualità una disposizione ampia e confortevole un veicolo ideale per la famiglia garage importante uno dei garage più grandi esistenti tra i mansardati ideale per scooter biciclette scocchi in alluminio lucida finestra 6 doppio vetro in teraiate una bella dinette centrale con grande vivibilità sulla zona giorno letto matrimoniale trasversale posteriore con sottostante garage accessibile anche dall'interno cucina laterale con quattro fuochi e forno a gas il veicolo è un 7 metri 20 di lunghezza for transit 2 4 140 cavalli 35 mila chilometri qui notiamo un letto matrimoniale trasversale posteriore ben finestrato qui che offre un ampio respiro notiamo un bel letto matrimoniale in mansarda anche lì finestrato vivibile frigo grande da 150 litri ford motorizzazione con clima cabina manuale comandi al volante cruise control il veicolo offre la scaletta posteriore col portapacchi la porta d'ingresso con la finestra e la zanzariera il pannello solare che offrono un'importante autonomia di corrente per cui ideale anche per la sosta libera riscaldamento truma combi 6 mila gas la stufa più potente che c'è veicolo ideale anche per l'uso invernale la luce esterna l'autoradio doppio dini in cabina come abbiamo visto antena tv digitale zarrestri un bel bagno con box doccia separato un bagno vivibile 7 metri 20 di lunghezza 4 post 5 posti omologati per la marcia 5 posti omologati per la marcia 6 posti lento meccanica forward più potente 140 cavalli catena di distribuzione un veicolo ideale per la famiglia per chi ama gli spazi ampi per chi vuole un garage importante per chi vuole stare su una qualità alta offerto da beltrani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti